Il fronte di guerra in Ucraina potrebbe produrre milioni di profughi. E' questo ormai un esito dato quasi per scontato e che le città, i singoli stati e l'Unione Europea saranno chiamate a gestire nelle prossime settimane. Ma le distinzioni, anche politiche, oggi tornano a farsi sentire, come quelle mosse da Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, che ha parlato del presunto rischio che i migranti dall'Africa possano passare attraverso i corridoi umanitari in Ucraina. Se c'è una donna africana che scappa dall'Ucraina, la devono accogliere, secondo lei o no? Non è facile stabilirlo e questo deve seguire un processo perché altrimenti diventa un viatico per tutti quelli che scappano dall'Africa. Ma il concetto espresso dalla zanina leghista Sky TG24 è più ampio e riguarda anche la qualità delle persone che chiedono asilo. La sinistra vuole accogliere tutti senza fare distinzione tra chi scappa dalle guerre o chi semplicemente viene in Europa per motivi economici. Noi invece lo abbiamo sempre detto, le due emergenze devono seguire canali diversi. In Europa stanno scappando prima donne e bambini, gli uomini stanno rimanendo a combattere per la propria terra. La differenza invece con i nostri barconi che arrivano nel Mediterraneo sono composti tutti da uomini. All'eurodeputata leghista ha risposto un collega di Strasburgo, Nicola Dante di Italia Viva, che ha sottolineato come esistono regole precise sull'accoglienza e che a quelle bisogna rifarsi. Le regole per cui si accoglie delle persone sono quelle scritte nei trattati internazionali. Chi pensa di avere un diritto a uno status di rifugiato, lo status di rifugiato politico si ha per determinate caratteristiche. Si può avere perché si scappa da una guerra, si può avere perché si è perseguitati nel proprio paese, perché si professa una religione diversa, perché si è perseguitati per motivi di orientamento sessuale, ci sono tante motivazioni che sono scritte, che non sono determinate né da me né da Susanna Ceccardi, sono determinate dai trattati internazionali. Ora io penso che sia difficile oggi pensare che ci sono delle persone in Africa che partono dall'Africa, vanno in Siria, poi in Turchia, salgono in Ucraina, attraversano un paese in guerra per entrare al confine. è più semplice prendere un barcone, non c'è bisogno di fare tutto questo, anche logisticamente. Quindi questa roba qui non esiste, esiste che ci siano delle persone africane che lavoravano in Ucraina e che come tutti gli altri ucraini hanno diritto ad essere accolti.